Una scuola proiettata verso il futuro è quella a cui guarda lo SNALS CONFSAL che sta celebrando l'undicesimo congresso nazionale. Ecco dopo dieci anni oggi celebriamo l'undicesimo congresso dello SNALS. Dopo dieci anni lo SNALS CONFSAL incontra tutti i delegati. I delegati che sono stati nominati nei congressi provinciali e congressi regionali. Siamo qui per rinnovare anche la struttura nazionale. Dopo questi tre giorni saranno eletti i nostri rappresentanti nazionali. Oggi discutiamo di argomenti importantissimi della scuola. Oggi parliamo di quelli che sono i nostri principi fondamentali dello SNALS. che da sempre abbiamo curato e abbiamo cercato di far valere. Ecco noi parliamo di progressione di carriera, parliamo di autonomia, parliamo assolutamente di ridare alla scuola, all'istruzione l'importanza che aveva. Perché per noi la centralità della cultura è la centralità del domani, è la formazione dei giovani che ci interessa. Dove ci sarà cultura ci sarà un domani migliore.